Con un'interrogazione prima firmataria Valentina Palmeri, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle a Lars ha chiesto al governo regionale di verificare lo stato di attuazione della legge regionale del 2000 sul randaggismo, che prevede l'istituzione dell'anagrafe canina e norme a tutela degli animali d'affezione. Dopo la strage di randaggio avvenuta a Sciacca, il Movimento 5 Stelle dichiara di voler fare chiarezza sulla razio che ha indotto le aspe di Agrigento e Caltanissetta a emanare due circolari che, in contrasto con la norma regionale, sostengono i parlamentari pentastellati, prevedono di limitare la microcippatura a cani di età inferiore ai 60 giorni di proprietà del richiedente e nati da femmina di proprietà del richiedente. Non solo, in diversi comuni nissiani e dell'Agrigentino, aggiungono i 5 Stelle, mancano strutture deputate ad accogliere gli animali, mentre quelli che ne sono muniti hanno capienza limitata rispetto alla quantità di randaggi presenti sul territorio. Per il Movimento 5 Stelle occorre poi pianificare una campagna di sensibilizzazione dei cittadini contro l'abbandono di animali domestici in vista della stagione estiva, quando il numero di abbandoni di cani e gatti aumenta sensibilmente. Vogliamo capire per quali regioni le aspe di Agrigento e Caltanissetta hanno diramato queste due circolari, dice la Palmeri, peraltro in netto contrasto con la legge regionale il cui scopo è, al contrario, massimizzare la tracciabilità degli animali, punendo chi non vuole mettersi in regola rispetto alla microcippatura e non il contrario. Dopo la strage di randaggio avvenuta a Sciacca, concludono i parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle, ci chiediamo che senso abbia limitare l'iscrizione alla nagrafe canina ai cuccioli. Vogliamo poi capire quante risorse il governo intende stanziare per incentivare le sterilizzazioni di cani e gatti, visto che non abbiamo contezza delle somme previste dall'esecutivo. Proprio a seguito dei fatti verificati sia Sciacca, il governatore Nello Musumeci, nell'incontrare le associazioni animaliste, aveva annunciato lo stanziamento di 2 milioni di euro e diverse iniziative per fronteggiare l'emergenza randagismo nell'isola.